Signori, oggi matto con Ultron, perché mi sono reso conto che alla fin fine di questa settimana abbiamo provato tutte le nostre carte nuove. Abbiamo provato Tena, che è una carta forte e vi consiglio di valutare fino a martedì, di provare a prenderla nel spot. Poi abbiamo provato anche il Thanos Reworkout, fatemi sapere se ne volete altri di mazzettini con Thanos, perché ne sto collaudando altri. E ci manca ovviamente la carta del secondo passo, ovvero Gilgamesh, che se ci pensi è anche Wong con un po' di capelli. E lo andiamo a provare in un mazzo con Ultron. Sapete benissimo che se qui nella mia soglia di carte del merda ci sta Ela, qui sotto ci sta Ultron. Diciamo che è un mix. Però se ci pensate è un mazzo che è l'unico mazzo che mi viene in mente da valorizzare al meglio Gilgamesh, perché l'abbiamo provato così sporadicamente venerdì. Non venerdì, martedì, martedì, il giorno dell'uscita della patch abbiamo provato in live su Twitch. Vi ricordo che stasera alle 21.30 startiamo e ci giochiamo il VIP in palio come ogni domenica, non mancate. E sarò sincero, a me Gilgamesh non piace, non trovo il senso di questa carta. E proviamo, proviamo anche perché un mazzo in più per giocare Tena. Il Padre otto con Ultron alla fin fine se regge la combo, abbiamo anche Invisible Woman in qualche modo per proteggere le nostre carte. Se work alla comba è worth, altrimenti ci attacchiamo. Andiamo a trovare intanto qualche lockdown. Allora, diciamo che come start worth abbiamo già l'Invisible Woman con il Padre, però abbiamo anche Tena e questo è il fatto. Allora, piccola nota, se giocate una carta, se volete sfruttare Tena, se giocate una carta con Invisible Woman sotto la location Invisible Woman oppure sulla dimensione oscura che è lo stesso effetto Invisible Woman, non vi attiva l'effetto di Tena. Quindi devono essere perfettamente scoperte le due carte. Piccola cosa, perché io ci ho provato e ho preso il cazzo. Allora, io direi di andare a fare Invisible Woman Patriot, no? E poi vediamo. Tena, per il momento ce la lasciamo lì. Questo è un discard, perfetto. Abbiamo un abbonamento incredibile, penso, con questo mazzo per richiamare i mazzi di merda, pensa tu. Però c'è anche la dimensione Nur che per il mazzo, per il nostro mazzo è molto buona. Facciamo Tena Ravonna? Tena Ravonna ci sta. Però a me non serve più. A me non serve più se ci pensi. Perché poi io andrò a fare Gilgamesh e andrò a fare... Cosa? Che cosa? Niente. E se non mi da ulto non è finita, fratello bello. Sei. Allora facciamo Rollad, facciamo Rollad, facciamo Gilgamesh. E poi Blu Marvel settato. Magari. Magari sì, magari sì. Perché c'è la base degli Avengers, capito? Cioè, nel senso, poteva essere morta la cosa. Ok. Lui lo farà. Lui lo farà. E lui si prende una 4-9 intanto. Allora, morta. Niente. Ultron. E frate, Ultron è vero? Mi ha dato. Mi ha dato Ultron però. Mi ha dato Ultron. E qui c'è da fare una scelta. Noi dobbiamo andare a giocare per forza qualcosa. E dobbiamo andare a vedere dove vogliamo poi andare a fare Ultron perché... Cioè, Ultron qui si fa. Per forza qui. Però... C'è l'azione tragica. Certo è che se noi andiamo a settare Ultron qui tipo in una location fra centro e destra, mi prende 4 punti di buff. Il grande Gilgamesh. E va a 11. Che dici tu? Non è male 11. Ma proprio per niente non è male. Voi ce l'abbiamo anche... L'ad. Io punterei su due location. Farei due Marvel. Eh, però se... No, no. Gilgamesh. Gilgamesh e poi Ultron. Dai. Gilgamesh e poi Ultron. Cotto. Cotto, cotto, cotto. Questo è un piccolo particolare che mettiamo in aggiunta e l'avversario si ritira. Ma meno male. Ma meno male. Perché altrimenti era tragica la cosa. Molto bene. Eh, la scimmia. Sì, siete veramente delle scimmie. Tutti coloro che giocano è la... Sì, sì, la siete. Dai, andiamo avanti. Vai, andiamo avanti. Ah, comunque, vi ricordo di entrare sul gruppo Telegram perché ieri, penso... Cioè, oggi, per quanto ci riguarda, è stato... È uno giorno importanti per Marvel Snap. Perché ieri c'è stato l'IGN. Per chi non sapesse le cose di IGN. Molto riassumendo, fanno vedere robe. Fanno vedere robe per quanto riguarda i videogiochi. E cose nuove, tipo trailer, modifiche, Ragazzi, mazzi. E ci stava anche Marvel Snap. Ci stava anche Marvel Snap. Quindi potete trovare tutte le info sia sul gruppo Telegram che sul gruppo Discord. Qui sotto in descrizione. E poi stasera ne andremo a parlare. Entusiasti. Entusiasti aggiungere. Entusiasti. Sì, Tena. Minescape è brutta. Minescape è molto brutta. Ma io giocarei Tena per forza. Allora, lui ci avrà la Soul. La Soul. La Reality. Ok. Vabbè, io in continuoerei a settare le mie carte come per esempio il Patriot. Tanto lui non credo, non so, non credo abbia patch card importanti come per esempio una Rock o un Red Guardian. Però ci giochiamo il 50-50 con Tena. Tanto giochiamo Patriot qui. Turno 4 io abuserei di una Rollad. Che non mi vengono altre giocate migliori. Il problema è il ponte traballante. Il problema è il ponte traballante. Il problema è anche questo. È vasto. Giochiamo in curve. Vediamo quello che succede. Non sono le più grandi location che noi possiamo mai vedere nel resto della nostra vita. Però c'è Carmelino che sta imbestialito. Cioè lui se la vuole portare a casa questo game. DigiTime. C'ha... Ok, giocare a Thanos quindi. Vabbè, Visible Woman. Potrei darmi qualcosa di più carino tipo l'effetto di Iron Man. Chiedo. Forse molto, molto. Forse sto chiedendo veramente molto. Prendiamo Blue Marvel a sto punto e poi la chiudiamo con Ultron. Questa è la nostra play migliore. Questa è la nostra play migliore e non possiamo farne altro. Thanos. Ok. Ora, sti schipoidi qui da 2 prendono un... 5. Prendono un 5. Essenzialmente vanno a prendere 5 e... E basta. Cioè a me non mi serve nulla. Questo è. Il problema è che lui mi farà blob qui. Il problema è questo. Che lui mi farà blob qui. E io non potrò vincere la partita. Molto, molto. Cioè potrei giocare anche Watt ma... Vedete non si attiva l'effetto. Cioè vi dice che si attiva ma non si attiva in realtà. E ora proviamo. Tanto gliela butti qua. Tanto si distruggono. Vi faccio vedere sta roba. Anche se perdiamo la partita. Oddio Cannonball. Oddio Cannonball fratello. Eh ma... Non vinciamo. Oddio, 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 oddio. Calmo, 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 calmo. Calmo e... Non ci arriviamo. Non ci arriviamo, non ci arriviamo. Perdiamo per differenza. Non ci voglio credere. Perdiamo veramente per differenza. Hai visto che non si è preso il power up, Tena? E invece sì! No, perché invece sì? Perché ha spostato l'effetto dell'Invisible Woman, capito? E l'abbiamo portata a casa così. Grazie al Cannonball. Hai capito quanto è bello trollare questo maledetto? Perché... Oh! Second dinner! Serve il nerf. Serve il ribilanciamento di Cannonball. Grazie perché il lockdown sta diventando un problema. Cioè è sempre bello ogni volta... Io vado ogni volta a rivedere i mazzi che facciamo il video. Io sono andato a vedermi il lockdown. Quando usci il lockdown, ma proprio in meta. E ci ho fatto il video. E io ero molto contento di questa roba. Perché poi era tornato un mazzo lockdown, capito? Però adesso è frustrante. Adesso è frustrante perché è troppo storpia. E quando le persone vedono che un mazzo va così tanto... E immagina così tanto le partite. Voi incominciate ad abusarne. E dici tu... Poi è problematica, sì. Poi è problematica la situazione. Dazzler. Dazzler? No, Ravonna. Ravonna. Diamo sempre priorità a quella che ci permette di giocare più carte. Come per esempio adesso Patriot. Più squire il progetto. Pegasus. Lui, come la su... Bello, Gilgamesh. E... Vabbè. Io giocherei Patriot da Azzler a sto punto. E Ladd? Ladd mi sembra too much. Metti che prende già Ultron. Vogliamo provare? Già al turno 4. Proviamo, dai. Ladd comunque con Lockjaw. Se lo potrei benissimo evitare. Patriot? Ah, stesso mazzo? O là. Non è bello. Non è per niente bello. Io mi ritirerei. Io con Nesto mi ritirerei. O giocherei Lockjaw così per il meme, frate. Però lo vedo veramente dura con Nesto se vince. E lì. Cazzata. Pena. Io ne ho la carta inutile. Gilgamesh. Lo switchiamo. Sperando di trovare Ultron. Lui mi... Mi snappa, frate. Io mi devo ritirare. E in che senso? La carta dell'hub gli ha servito a... Ma forse non dovevo giocare tutte quelle carte io. Cioè, nel senso. Non dovevo giocare a tre carte. Dai, su Netflix. Non potevo mai pensare che lui avesse Polaris. Con Antman. E gli ha dato l'hub, tra l'altro. Lasciamo stare, dai. Lasciamo stare. Tanto ormai siamo abituati a queste robe su... Su Snap, dai. Siamo abituati. Ehi. Bravo. Iscriviti al canale. Buona visione. Ah, e fatemi sapere in che mazzo l'avete provato Gilgamesh. Perché, infine, cioè... Io l'ho provato qui. Ma per farci il video. Cioè, altrimenti io non lo gioco Gilgamesh. Cioè, nel senso. Ha voglia che c'è scout ogni volta in live che mi fa. Provo sto mazzo con Gilgamesh. Sto gran cazzo, frate. Che provo Gilgamesh a sto punto. Vale in bimbi. Forse non si poteva dire questo. Forse è stato tagliato questa roba che ho detto. Però... Davvero no. Cazzo. Castello Blackstone. Frate, Castello Blackstone... Boh, frate. Tutte queste location comunque... Un po' eccessi. Un po' too much. Posso dire che sembra che sono tutte a pennello. Lockdown. Lockdown. Vai. Vai. Io che cosa ti devo raccontare? Che tu c'hai tutta la combo in mano? Che cosa ti devo raccontare io? Se non che devo fare Ravonna e Waspio. Totalmente inutile. Perché lui adesso potrà farmi il profix adesso. Se lui può farmi il profix. E non ho che fare io per contrastare quella roba io. Non ho che fare. Potrei fare così. Alzarderei a fare così. Ecco qua. Oddio. Quasi quasi non mi chiuderei. Sì perché io non posso fare nient'altro. Io opterei per Iron Man. Opterei per Iron Man. E poi... Squirrel. Eh. Poi spostiamo tutto su New York. Se non fai il profix in mezzo. E poi ce la giudiamo con Ultron. Questa è la play. Non mi fare il prof. Non credo... No. Non credo sia il prof. E Sage. Che è ben diversa la situazione. 24 punti. Tosta. Tosta. Ora. La cosa che mi verrebbe in mente di fare a me è spostare Iron Man qui e cercare di fare Ultron. E cercare di fare Ultron. Ovvero così. E vincere il dual location. Perché così facendo noi teniamo. Teniamo qui. Penso che tra Sage e Walsben se li sposti. Lui c'è la roba. E io spero che non mi faccia il profix. Spero solamente questo perché ce l'ha avuto lui. Altrimenti poi la play mi sembra worth. Da fare. E... Vediamo. Non mi ha spostato. Nulla. E io credo che vinciamo la partita. Che stupido. Ma quanto puoi essere stupido a fare questa play. Che cazzo è Elsa kit? Che chiusura è? Vabbè c'era un'altra carta in mano. Vuol dire che ha breccato. Dai. No no no. Non è stupido. Non è stupido. Non è stupido. Che tra l'altro lo che ci penso ci stanno anche... I drop stasera. Ci sono un sacco di roba. Come domenica. Hai capito tu? Quanto mi fa strano vedere Marvel Snap. Comunque che c'ha il picco. Nei giorni del drop. Se voi notate. Vabbè che c'è stato anche il torneo oggi. Oggi, ieri. Non mi ricordo. Però ci sono quei 3-4 giorni. In cui Marvel Snap riprende il respiro. Per capito? E poi ci sono giorni che tipo... Mi ricordo qualche giorno fa. Prima di tutte queste robe che hanno annunciato. Su Marvel Snap c'erano 800 persone. Su Twitch. Eh, se ci pensi è relativamente la merda. Padre, ho tentato. Non parliamo di questa cosa. Non parliamo di questa cosa. Parliamo del mazzo. Parliamo di Gilgamesh. Che penso che non l'abbiamo ancora usato. È il video suo. Dobbiamo provarlo Gilgamesh. Dobbiamo rendergli onore. Ragazzo. Comunque posso dire che a me i guardiani... Gli Eterni come film dell'MC mi ha fatto sboccare. Cioè, penso che è l'unico film Marvel che io ho diviso in due. Ma perché effettivamente mi aveva rotto il cazzo, cioè... L'HUD. Fai l'HUD e poi... Boh. Ci abbiamo Patriot. Ci abbiamo la combo per essere. Sai che cosa serviva? Serviva un Blue Marvel. Un piccolo Blue Marvel, capito? L'HUD mi fa prendere l'Invisible Woman così che possiamo fare Gligamesh. Vabbè che ci abbiamo il turno 7. No, no, no. C'è pure il turno 7. Quindi possiamo fare roba. Però ce l'ha data comunque, eh. Ce l'ha data comunque. Uno. Poi facciamo Ultron. E poi vediamo se ci delizia di un Blue Marvel oppure... Vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Io non capisco che cos'è. Sembra un Sirebro. Però un Sirebro con basta. Sirebro a tre. Sì, un Sirebro a tre sembra, sì. Vero. Tutta storia quella. Però... No. Però no. Io farei Iron Man qui. Io farei Iron Man qui. Perché se ci pensi si attiva prima Gligamesh di Ultron, no? Quindi Ultron poi lo andiamo a sparci. Ce lo spariamo qui, no? Sì, ecco. Mi piace di più sta play. Mi piace molto di più questa play. Sperando che basti lì... Perché lui c'ha 7 tatuari. Ma lui c'ha... Adesso 7 la Sirebro a me. Mi stico anzi. Però che c'ha la Valchiria pure lui, eh. Lui c'ha anche la Valchiria. Attenzione alla Valchiria. Madonna, frate. Meno male che mi hai fatto Killmonger adesso. Tu non hai idea. Non hai idea. Non hai idea. Vediamo... Vediamo così. Vediamo così. Giochiamo così che è molto meglio. Quindi qui c'abbiamo Gligamesh. Qui c'abbiamo Iron Man. E il Patriot che fa baffare tutto. Io ho una snappett... Un snappettino così... Con gli Articolo farei. E lui andrà a mettere... Oddio. C'ha pure Patriot. Però sto d'inizio. No, non è un Sirebro. No. Questo è il mio. Questo è il mio. Questo è il mio. Questo è il mio. Quindi è un Sirebro. Quindi è un Sirebro, ragazzo. Te l'ha briccato, penso. E se mi fai Patriot... Patriot. Un game intero di teorie su dove andare a settare questo, dove a settare quest'altro. E poi il ragazzo si ritira. Va bene. Adesso io ho la soluzione per tutto. Non vi preoccupate. Pre-full. Vai di nuovo di match. Mi abbevero intanto. GG. A te, ragazzo. Allora. Abbiamo... Vabbè. Vabbè. Diciamo che... Tena in questo mazzo va in contraposizione con la... L'Invisible Woman. Diciamo questo. Però... Poteva essere sempre un... Un bel... Una bella carta per poterla proprietare. Capito? Squire all'altro punto. Anche se è così... Al buio. Cos'è che gli ha scartato a lui? Gli ha scartato la spada del buono. Ma che mazzo è? Un reveal. È l'unica cosa che mi viene in mente. Patriot Squirrel. Va bene. E poi abbiamo Iron Man. Turno 5. Abbiamo Blue Marvel. Turno 5. Mi devi dare l'add. E lui c'è a tena. E lui c'è a tena. Mi potete dire qui sotto quanti di voi non hanno preso tena? Perché... E ovunque. E letteralmente ovunque. Ravonna. Qua spazio la teniamo. Facciamo Ravonna. Eh ma Ravonna. Madonna frate. Ravonna. Madonna. Farla qui. Anche se non mi serviva. Poteva anche schippare. Eh frate. Ma che cosa Ghibli che prende il Green Goblin? Vabbè oh. Vabbè. Tanta caccia. Se follia. Lì. Oddio. Non so se aspettarmi un ProPix qui però. Non lo so se aspettarmi un ProPix qui. Giorno me lo aspetto qui. E non qui. Però lui può pensare che mi faccia le teorie. E io me ne faccio molte le teorie quando gioco a sto quazzo di gioco. Soprattutto che sto giocando Gilgamesh. Che ci inventiamo qui? La criatura è Iron Man Dazzler. Volendo. La Wasp conviene buttarla qui. Però devo coprirmi. Devo coprirmi. Eh lo so. E lui mi snappa. Perché ha due possibilità da fare il ProPix. Penso che lo faccio a questo punto dai. Lo faccio a questo punto. Però non posso non buttargli niente qui. Oddio. Eh. Eh. Oddio calmi. Oddio calmi. Eh. Qui arriva Iron Man. Perché qui arriva Iron Man. C'è per forza. Forza deve arrivare Iron Man perché sennò perdiamo. Qui. Qui gioca Dazzler. Teoricamente. Mi fa GG. Vabbè. O. Ehm. Chi cazzo ti ha insegnato a giocare? Non so che cosa dire. Io ogni volta. Mi faccio le teorie. Tu che cosa può andare a giocare l'avversario. Ma il ProPix così al turno sei. O pensare che c'è la Magic settata. È l'unica cosa. Perché non aveva proprio senso quella play. Cioè mi voleva predittare Ultron. Eh. Non giocare nulla. Vabbè. Pass. Ah. Allora abbiamo tutto. Tutta la partita per pescare Patriot Blue Marvel. Io schippo un altro turno per sicurezza. Ma. Non arriva nulla. Io me ne andrei. Oddio. Volendo. Adesso giocando Killgamesh comunque si dovrebbe appropriatare. Vediamo. Penso che l'animazione prima me la fa vedere. Anche se è il turno 4. Me la fa vedere. Sì. Sì. Funziona anche con l'Elocation. E guarda qui. Prenderebbe un più 8. Eh. E. Ok. Dazzler. Non posso non giocare Dazzler. Parliamone. 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 Io vorrei vedere il turno 5. Però non mi snappare. Perché altrimenti me ne vado. Perché questa è persa del 100%. Parliamone. Ah. Mi ha fatto pure il profilix. Questo è un Thanos con il profilix. Persa. Persa. Quest'altro che non mi ha snappato veramente. Quest'altro che non mi ha snappato veramente. Vai. Però alla fine è approvato il mazzo. In grandi linee. Non ci ha regalato sempre la vittoria. Ma più che altro perché queste location oggi ci hanno veramente disgustato la vista proprio. Ci vediamo stasera boys. Un bacio. 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 Un bacio.